in questo tempo delle cattive Notre-Dame de Paris, insieme a Poltronissima qui al Palapitur Tania, che è qui con noi, che bella! Anche perché mi avete braccato, non mi posso muovere praticamente Ci teniamo stretti stretti a cucinarmi Teniamoci stretti stretti Allora, ma sei davvero così cattiva? Dipende, mi disegnano così Sul palco Ma in realtà lei non è cattiva, lei vuole semplicemente riprendersi il suo uomo Ciò che è suo, una cosa che credo farebbe qualsiasi donna La donna innamorata Senti, ma Notre-Dame de Paris ormai nel cuore di tutti quanti noi Per noi è il musical per eccellenza, per te cosa rappresenta? Allora, Notre-Dame, bella domanda In realtà per me è un po' un cerchio che si chiude L'ho detto già qualche altra volta Perché io ho cominciato a lavorare in teatro proprio con Riccardo Cocciante In Giulietta e Romeo, dove ero? Giulietta Quindi ero meno cattiva Ah, giusto! Vedi? Ero più piccolina, ero meno cattiva Anzi, ero molto più bambolina con questi ricetti E poi è arrivata, dopo una serie di altri spettacoli Altre esperienze che ho avuto nel corso degli anni È arrivata questa cosa Tante! Un bel po', diciamo È arrivata questa cosa di Notre-Dame Che per me è stata una notizia splendida Il pubblico ogni volta premia tantissimo questo spettacolo Sono bravissimi, sono emozionanti Siete incredibili, avvolgenti Cos'altro dirvi? Quello che si aspetta veramente Che dal palco possa arrivare Possa aglietare una serata No, siamo contenti È la nostra ricerca giornaliera Nel senso che è questo che ci dà stimolo Avere tutte le volte un pubblico diverso E provare ad emozionare gli altri Così come ci emozioniamo noi sul palco Perché anche per noi ogni serata è così Certo E non c'è nulla di più bello Allora invita tutto il pubblico di Poltronissima Fino al 22 dicembre a venirvi a vedere Allora, tutto il pubblico di Poltronissima Toglietevi dalle vostre poltrone Venite nelle nostre Qui al Palalpitur Non potete mancare Grazie Tania! Ciao! Grazie a voi! Ciao! Ciao!